La pandemia non firma il Salone della Nautica, anzi celebra la quinta edizione del Salerno Boat Show con numeri in crescita e in continuità con il Salone di Genova. Taglio del nastro questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo Di Luca, del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, del Presidente del Gruppo Gallozzi e proprietario del Marina da Reiki Port Village, Agostino Gallozzi, del Salone Nautico aperto al pubblico da oggi e fino al prossimo 10 ottobre, sempre più punto di riferimento per la nautica del centro-sud Italia, che rappresenta circa il 40% del mercato nazionale. Con 100 espositori, 150 imbarcazioni e oltre 80 marchi nautici, la manifestazione 2021 prevede un'apertura libera e gratuita al pubblico per questo weekend e per sabato e domenica prossimi, 9 e 10 ottobre, con orario dalle 10 alle 19, mentre durante la settimana sono previsti incontri con clienti e fornitori che potranno provare una barca direttamente in mare, spostandosi nelle acque della costiera amalfitana o cilentana, un'opportunità a cui si aggiunge anche un forte carico emozionale. A dirlo questa mattina, nel corso della cerimonia inaugurale, è stato il Presidente Agostino Gallozzi, che ha colto l'occasione di incontro con i giornalisti per parlare anche dello sviluppo della parte urbanistica del Porto Marina d'Arecchi che andrà ad integrarsi con la riqualificazione di Salerno Est, un altro lungomare per la città di Salerno con attività commerciali da movida, con la riqualificazione dell'area che ora guarda allo sviluppo di un polo alberghiero. Il Salone della Nautica rappresenta un patto per Salerno per lo sviluppo del turismo del mare, così ai nostri microfoni il Presidente Agostino Gallozzi. Sicuramente è un segnale importante, è la quinta edizione, quindi abbiamo negli anni sviluppato questa presenza a Salerno in maniera molto importante. La prima edizione fu nel 2014, l'edizione Zero, quando volevamo rilanciare un comparto che all'epoca soffriva moltissimo della crisi. Oggi siamo da una crisi diversa, quella della pandemia, ma con molta volontà, molta determinazione. Il Salone quest'anno cresce ancora di più, abbiamo oltre 100 espositori, poi vedete siamo veramente pieni di gazebo di espositori, 150 imbarcazioni a mare, 80 marchi della nautica nazionale e internazionale presenti, quindi sta assumendo una veste importante, peraltro in collegamento con l'industria nautica nazionale, quindi in continuità con il Salone di Genova, che è comunque il salone più importante non soltanto d'Italia ma d'Europa, perché il concetto è fare sistema e fare rete, non è soltanto un'affermazione così di principio. Stiamo facendo sistema nella nautica, perché così il Salerno sarà inserito in un ambito, in una visione molto più allargata. Io credo che possa recitare un ruolo importante proprio nella nautica del Mezzogiorno d'Italia. Il porto turistico ha registrato grandi numeri negli ultimi tempi, quanto può crescere ancora urbanisticamente il porto turistico Marina D'Arechi? Diciamo che la parte urbanistica è quella che si andrà a integrare con la riqualificazione di Salerno Est, di questo abbiamo parlato stamattina con il presidente De Luca, con la parte a terra che diventerà una sorta di lungomare a terra con attività commerciali da movida, è un po' in piccolo quello che si è fatto a Piazza della Libertà con i negozi sotto piazza. Nel canale la struttura, progettata all'epoca da Calatrava, verrà riqualificata per diventare un albergo di fascia alta in modo da interpretare al meglio la vocazione di questa zona di Salerno.